Raid vandalico alla scuola primaria della frazione San Pietro a Montoro. Nella notte i vandali, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nell'edificio scolastico. Il loro obiettivo è i distributori automatici. Hanno cosparso di alcol etilico una macchinetta del caffè e poi hanno appiccato le fiamme. Il distributore è andato distrutto, ma i malviventi non sono riusciti a intaccare lo scomparto con le monetine. Scomparto che avrebbero comunque trovato vuoto, visto che era stato svuotato prima della sospensione delle attività didattiche per la festività dell'Immacolata. Prima di andarsene, i vandali hanno comunque avuto il buon senso di spegnere le fiamme che loro stessi avevano appiccato. La scoperta di quanto accaduto nella notte si è avuta solo questa mattina, sul posto i carabinieri della stazione cittadina per i rilievi del caso.